La socialite Lady Glenconner ha affermato che l'ex candidato presidenziale John Kerry ha affermato che gli americani si sono sentiti molto, molto dispiaciuti per Harry, quando gli è stato chiesto del suo matrimonio. Un'ex dama di compagnia della sorella minore della defunta regina, ha visto le sue affermazioni ufficialmente confutate in una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano. Lady Anne Glenconner, amica intima della regina Elisabetta II e della principessa Margaret, è finita nel mirino dopo aver affermato che l'ex segretario di Stato americano John Kerry aveva apertamente commentato il matrimonio del principe Ferry e Meghan Markle durante l'incoronazione del re. Lady Glenconner, ha affermato che il politico statunitense ha ammesso che gli americani si sono sentiti molto, molto tristi per il principe Ferry, quando ha avviato una conversazione con lui. Parlando al Barnbook Fest, ha detto, mi sento molto triste per Ferry perché, ho l'incoronazione del re, mi è capitato di sedermi accanto a qualcuno chiamato John Kerry, che si candidò alla presidenza, voleva diventare presidente. Ed è venuto con la signora Biden, perché gli piacciono le cose verdi, ed eravamo seduti con gli amici del re, e gli ho detto, cosa ne pensi in America di Ferry e Meghan. E lui semplicemente disse, siamo tutti molto, molto dispiaciuti per Ferry. Quindi penso di poter lasciare le cose così. Ma un portavoce del Dipartimento di Stato ha respinto le accuse, e ha insistito che Kerry non avrebbe commentato la vita privata del Duca di Sussex, e di sua moglie. Hanno insistito che Kerry non aveva alcun ricordo della presunta conversazione, e che non sarebbe stato coinvolto in discussioni pubbliche di natura privata. La dichiarazione afferma, qualsiasi implicazione che il segretario Kerry stesse commentando il matrimonio sarebbe sbagliata.